Se la Toscana rappresenta un'eccellenza nel settore agroalimentare, lo si deve anche al ruolo svolto quotidianamente dai medici veterinari pubblici, nella tutela delle filiere, delle produzioni tradizionali e nella salvaguardia del territorio, come spiega il libro bianco sulla sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare in Toscana, presentato nella sede della Giunta regionale dall'assessore regionale al diritto alla salute. Per produrre prodotti di qualità non basta avere oggi soltanto delle buone competenze professionali come casari, come allevatori, come salumieri, ma bisogna anche rispettare delle norme di igiene, norme di igiene di carattere europeo, che a volte possono essere impressionanti, difficoltose per chi opera nel territorio e che non ha le conoscenze giuste, ma con la mediazione della parte veterinaria del sistema sanitario pubblico si dà un grosso contributo agli produttori locali e si offrono prodotti di assoluta sicurezza ai consumatori. Nel libro bianco vengono messe a fuoco anche le criticità del sistema toscano, analizzando i temi della sicurezza ambientale, del benessere animale e dell'igiene urbana veterinaria, nonché i cambiamenti innescati dalla globalizzazione dei commerci e delle derrate alimentari con i nuovi rischi emergenti. Grazie a tutti.